Colora di verde il tuo Natale, presso il Garden Traini Ecoservices troverai tanti abeti in zolla radicata o vaso, stelle di tutti i colori, agrifogli portafortuna, articoli da regalo e luci natalizie, muschio e accessori per il presepe. Colora di verde il tuo Natale, vieni al Garden Traini Ecoservices, uscita Superstrada Castel di Lama, a dicembre, aperto tutti i giorni, consegna a domicilio, telefono 0736 81 16 64.